Rifiuti raccolti in ritardo e a rilento anche oggi a Battipaia dove cumuli di indifferenziato giacciono sul ciglio dei marciapiedi. Gli operai di Alba, la municipalizzata a cui è affidato il servizio di igiene pubblica e decoro urbano, hanno dichiarato che la frazione dell'indifferenziato non potrà essere ritirata nei tempi previsti finché non verrà consentito ai camion di scaricare il multimateriale. L'emergenza è conseguenza della crisi e dello stato di agitazione dell'ex stir di Battipaia gestito dalla società provinciale Ecoambiente. Siamo in attesa di risposte, spiegano gli operatori di Alba, ma ad oggi dal comune non sono pervenute indicazioni su come agire. Intanto ieri davanti allo stir c'erano 50 camion in fila in attesa che i cancelli si aprissero per scaricare il secco indifferenziato. La causa stavolta non sarebbe soltanto il crack di Ecoambiente, ma anche il blocco di una linea del termovalorizzatore di Acerra.